passiamo adesso a santa gemma una delle sante passioniste più conosciute e più venerate non soltanto da noi passionisti in questa vetrina abbiamo in quel reliquiario un frammento del cervello di santa gemma accanto un altro reliquiario che contiene un frammento ex corpore in questa piccola teca ci sono dei capelli della santa e sempre dei capelli li ritroviamo più in basso all'interno di questa di questo porta fotografie ma forse l'oggetto più più conosciuto più venerato della nostra santa un oggetto che attira tantissimo la curiosità di molte persone è il famoso diario o come gemma lo chiamava il libro dei miei peccati gemma scrive il libro dei miei peccati come lei lo chiamava in un momento di intensa vita mistica su invito di padre germano ruoppolo passionista attualmente è venerabile gemma comincia a scrivere il diario il 17 febbraio del 1901 per finirlo nel maggio dello stesso anno è un libro preziosissimo non solo perché ci dà dei dati che riguardano la sua vita ma perché ci dice l'intimità profonda che lei aveva con gesù cristo si racconta tra l'altro che il demonio abbia tentato di bruciare questo diario una cosa è certa che sfogliando le pagine sono evidenti delle bruciature e addirittura su alcune di esse è possibile intravedere come la zampa di un felino